Il punto 20 Townie Cup Firenze di Novoli ha festeggiato i suoi primi 10 anni con numerose attività che hanno tenuto compagnia a grandi e piccini, dall'incontro con Bing, il coniglietto più amato dai bambini, al flash mob degli stessi dipendenti, dalle piantine regalate ai presenti all'esibizione del coro di Voci Bianche e Vivi le Voci di Firenze. Il tutto accompagnato dalla mostra fotografica del gruppo DGT Firenze, i nostri primi 10 anni insieme. Il decimo compleanno del negozio ha sicuramente segnato un importante traguardo raggiunto negli anni da una sempre maggiore qualità di radice toscana con prodotti del territorio a filiera corta e da una continua ricerca di nuove iniziative per soci e clienti. Compia 10 anni Novoli, veramente per me è un grande privilegio essere il direttore di questo negozio. 10 anni fa fu riconosciuto come un negozio innovativo, devo dire che Novoli è riconosciuto ancora come un negozio sperimentale, quindi si continua a fare le sperimentazioni all'interno di questo negozio. In questa zona che è comune dalla parte sociale, la parte commerciale, è stata inserita qualche anno fa la fabbrica dell'aria, che era la prima prova per un negozio e oggi è stata allargata nell'ultima ristrutturazione anche al negozio di Pontagrevi. I dipendenti sono stati un po' in valore aggiunto in questi 10 anni, perché questo negozio ha portato la valorizzazione del territorio e c'era bisogno di una grande professionalità da parte dei nostri dipendenti. Nuvola di Novoli, questo è il nome dello spazio della sezione Soci Unicop Firenze di Via Forlanini, un ambiente aperto e in comune con il punto di vendita per chiunque condivida quei valori di inclusione e socialità che hanno fatto della nuvola un punto di cooperazione e di partecipazione attiva nelle iniziative culturali e ambientali di salute e benessere e di solidarietà. La novità è proprio questa, che in questi anni hanno partecipato sempre più persone nell'attività che stiamo facendo, che abbiamo sviluppato. Da una bibliocop siamo arrivati a due, siamo partite con poche camminate, ora ne facciamo una alla settimana quasi, insieme addirittura in collaborazione con l'altra sezione Soci della nostra area di Firenze e pertanto voglio dire tantissime cose sono cambiate proprio in questo senso, cioè la sezione Soci si è ancora di più radicata nel territorio, svolge tutta una serie di attività importanti sociali ma soprattutto è un punto di riferimento. Si riconferma dopo dieci anni l'intuizione di un format rivoluzionario del punto vendita di via Forlanini, ispirandosi a un vero e proprio mercato cittadino e interpretando al meglio la nuova fisionomia residenziale e sociale di questa parte di città. La cooperativa ha investito in un negozio molto particolare che era questo di Novoli, con tante cose che negli altri negozi non si trovano e tutti noi, con i colleghi e colleghi abbiamo dato molto per questo negozio. Ora sono passati dieci anni, sinceramente mi parla il cuore perché ci sono molto affezionata. Grazie a tutti.